Ciao a tutti da Freddy Veratti e da Musicology di Modena Oggi l'argomento è come si impugna il plettro Ecco l'oggetto del nostro argomento, un plettro, normalissimo, brandizzato La mia band, Rain Allora il plettro giustamente ha questa forma a goccia La punta deve sempre essere rivolta verso le corde della chitarra Quindi molto semplicemente il plettro solitamente non si tiene in questo modo Come se noi prendessimo una qualsiasi cosa tra due dita Ma in linea di massima va tenuto tra il pollice e l'indice in questo modo Vedete? In questo modo Quindi l'indice deve assumere questa posizione Il pollice schiaccia nella parte laterale il plettro E la punta ovviamente viene rivolta verso le corde Quindi non così Non così Anche se Van Allen lo fa Van Allen è Van Allen Solitamente in linea generica Questa è la posizione più consola Il plettro Pollice e l'indice nella parte laterale E la punta ovviamente è rivolta verso le corde della chitarra